Ciao a tutti, la sfida con il Maggiolino è stata vinta, purtroppo a metà dei lavori ho dovuto interrompere con la pubblicazione dei filmati perché altrimenti non avrei avuto il tempo di finire e vincere la scommessa, quindi sarò anacronistico, però per farvi vedere che sono stato di parola, partirò dall'ultimo filmato, cioè da quando la rimetto in strada appunto per farvi vedere che non è una montatura, che si fa tutto con le mani e che ci sono riuscito, quindi poi via via monterò anche gli altri filmati delle componenti del rimontaggio e li pubblicherò, quindi insomma buon divertimento e siamo pronti per altri progetti, come per esempio le biciclette, altra cosa lo dissi, a me mi piacciono tutti i veicoli, quindi niente escluso, biciclette, monopattini, non lo so, attrezzi agricoli, bike, qualsiasi cosa che si possa muovere e non, perché mi piace restaurare anche oggetti insomma che stanno fermi, quindi piano piano vi guiderò in questo mondo e cercherò di farvi vedere il più possibile tutto il lavoro che svolgo, ecco buon divertimento anche a voi e 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 l'evento è appunto il matrimonio della nazione quindi ci siamo riusciti e adesso siamo pronti per un altro progetto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti